In collaborazione con Studio Spataro, amministrazioni immobiliari. Bentornati ad una nuova puntata di Avvocati Rispondono. Oggi parleremo di bonus assunzioni giovani 2018. Abbiamo chiesto all'Avvocato Pollastro come funziona lo sgravio dei contributi IMSS e per quanto tempo può essere applicato. Sentiamo cosa ci dice. Buonasera. Buonasera. Stasera faccio un appunto su un argomento probabilmente un po' meno simpatico, ma è un argomento, meno diffuso, ma è un argomento su quale invece ci sono domande, domande sia da parte dei lavoratori che da parte dei datori di lavoro. Come sapete, ne abbiamo già parlato una volta in passato, è stata in vigore un sistema di incentivazione all'assunzione di giovani, nel senso che il meccanismo reale è un abbattimento sensibile al 50% per 3 anni dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Cioè un datore di lavoro che assume un giovane a tempo indeterminato ha il diritto ad avere questo abbattimento significativo, molto significativo sui contributi previdenziali, mi correggo, sui contributi IMSS in effetti che sono quelli più grossi, rimangono invece integrali altri contributi tipo quelli dell'Ineil contro l'assicurazione di infortuni. Ma l'abbattimento del costo del lavoro viene in questo modo fortemente ridotto. Come abbiamo già detto, questo meccanismo è un meccanismo interessante, molto interessante perché a differenza delle solite cose che più volte vengono fatte in Italia su questi argomenti, non per la prima volta, però questo almeno istituto ha un carattere strutturale, cioè non è in prima applicazione per il 2018 facciamo questo e poi non si sa cosa succede alla fine dell'anno. Questo è un provvedimento di carattere strutturale che quindi andrà avanti anche nei prossimi anni, fino a che non cambia la legge evidentemente, ma non previsto con un termine già rigido di applicazione. C'è però anche un altro elemento che mi permetto di segnalare di particolare criticità è che è a vantaggio soltanto di lavoratori che sostanzialmente non abbiano mai lavorato. Chi ha avuto in precedenza esperienze di lavoro dipendente anche di breve durata, termine o quant'altro, non ha diritto a questo abbattimento di contributo, questa dote e questo mi sembra un elemento sul quale valrebbe la pena che il legislatore vada a ripensare questo argomento. Detto questo, la domanda che il lavoratore si pone, che già capita 1 o 2, ma quando cominciano a capitare 4 o 5, vuole dire che il problema che si pone è essenzialmente questo, che succede se io ho perso il posto di lavoro o meglio, sono stato assunto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha goduto del beneficio, dopodiché per una serie di motivi il posto di lavoro è andato perduto. Che succede adesso? Ho perso quel beneficio perché se vado da un'altra parte il datore di lavoro mi dice ma tu hai già lavorato, non posso godere. Non è vero, c'è un meccanismo che è stato definito dalla stessa IMS di portabilità del beneficio, cioè praticamente il lavoratore ha una dote che si porta dietro anche nel nuovo posto di lavoro, è chiaro, deve essere un datore di lavoro diverso, è chiaro, deve essere un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, ricordiamoci, a tempo indeterminato, perché questo beneficio è riconosciuto all'assunzione a tempo indeterminato e il nuovo datore di lavoro avrà diritto alla dote di assunzione ridotto quello che ha percepito il precedente datore di lavoro, cioè praticamente quello che rimane. è un elemento da tenere presente perché quando uno si presenta in un posto di lavoro può e deve segnalare anche questo aspetto che è oggettivamente di interesse per il datore di lavoro. Altro elemento è che il datore di lavoro, questo mi rivolgo soprattutto ai datori di lavoro, che trasformino contratti di apprendistato e quindi con una continuità rispetto al periodo di formazione, di apprendistato, li trasformano, li convertono in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oppure datori di lavoro che convertino contratti di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto a godere di questo beneficio, di questo abbattimento di contributi e quindi in buona sostanza un sostegno oggettivamente non trascurabile al costo del lavoro, quindi un abbattimento del costo del lavoro e un'assunzione di giovani che ha il suo peso. Serve quindi questa segnalazione per i datori di lavoro, ma serve anche per i lavoratori, i giovani lavoratori che possono ricercare un posto di lavoro, presentarsi in un posto di lavoro, ma segnalare che hanno anche, come dire, si portano dietro, diciamolo così, una dote che è una dote in termini di soldi, non trascurabile perché dura massimo tre anni per un abbattimento del 50%, alla fine sono un contributo davvero non trascurabile. Vizi e difformità dopo l'acquisto di un immobile. La legge prevede una serie di tutele per l'acquirente. Abbiamo chiesto all'Avvocato Bortolotti i tempi e i modi per farle valere. Parliamo dei vizi e delle difformità che possiamo trovare quando abbiamo concluso l'acquisto di un immobile. Anche questo è un argomento abbastanza delicato e di frequente presentazione e credo che sia opportuno che il cittadino, l'acquirente, conosca quella che è la sua reale tutela in queste evenienze. In caso di acquisto di un immobile, di un appartamento nuovo, di recente costruzione o oggetto di totale ristrutturazione, in caso di presentazione di problematiche, soccorre la cosiddetta disciplina dell'appalto privato. Cosa vuol dire? In maniera molto semplice, molto pratica. Se noi riscontriamo dei vizi nel nostro immobile, nel nostro appartamento di lieve entità e gravità che possono avere a che fare con l'estetica, con la funzionalità di una qualche parte del nostro immobile, abbiamo la possibilità di chiedere l'eliminazione del vizio stesso o la riduzione del prezzo a colui che ce l'ha venduto o costruito. Perché ricordiamo che molto spesso l'appaltatore, ossia il costruttore e il venditore sono grossomodo la stessa entità oppure sono comunque sovrapposti e hanno un ruolo diciamo parallelo. Nel caso in cui invece si tratti di problematiche che hanno una valenza, una gravità leggermente maggiore, ossia nel caso in cui addirittura l'immobile appaia inadatto all'uso che noi c'eravamo prefissi all'uso abitativo, ovviamente quindi con un livello di gravità ben maggiore possiamo accedere addirittura alla risoluzione del contratto e a chiedere la restituzione di quello pagato e risarcimento del maggior danno. Attenzione però, in tutti e due i casi questo tipo di garanzia non opera se è avvenuta la palese accettazione dell'opera, ossia dell'immobile. Questo cosa vuol dire? Che è avvenuto il cosiddetto collaudo, ma non dobbiamo farci ingannare dal termine perché la giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente che io firmi una carta e entri in casa perché si possa dire effettuato, avvenuto con successo il collaudo. L'accettazione dell'opera deve essere un'eventualità, una situazione fattiva che deve avere a che fare con la vita di tutti i giorni, cioè io devo essere entrato nell'appartamento, nell'immobile, devo viverci e devo aver fatto vedere con comportamenti concludenti che ho accettato l'opera così com'è. Nel caso in cui questo è avvenuto verrà meno ovviamente la garanzia nei confronti dell'appaltatore venditore, cioè io non potrò più sollevare questo tipo di lamentela. Se invece i vizi che poi vengono fuori dopo si potevano definire occulti, cioè un compratore di media diligenza non poteva comunque rendersene conto agevolmente, allora in quel caso la garanzia opererà ancora dal momento in cui il vizio diventa riconoscibile. Ricordiamoci che noi abbiamo in questi casi, molto importante, abbiamo 60 giorni per denunciare la nostra problematica, il nostro vizio, grave o meno grave che sia, all'appaltatore, costruttore, venditore, da quando lo abbiamo scoperto. Non è necessaria una denuncia analitica, non dobbiamo scrivere una diffida, descrivendo in maniera tecnica quello che è il problema, ma basta che venga sollevata la problematica all'attenzione del venditore e costruttore. L'azione giudiziale per ottenere la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera. Quindi se noi in ogni caso veniamo a scoprire una problematica quando è trascorso questo periodo, non potremo più rivalerci nei confronti del venditore e costruttore. La garanzia che poi tutela gli acquirenti di immobili conosce un versante addirittura migliorativo, proprio perché trattasi di beni destinati per loro natura a durare nel tempo. Quindi la legge riconosce per gli immobili una garanzia addirittura decennale nel caso in cui si presentino dei gravi difetti a carico dell'immobile che ne possono minare la stabilità, il sereno godimento da parte del proprietario e comunque che facciano rimedialmente venir meno il bene della vita che uno ha acquisito acquistando l'immobile. Quindi nel caso in cui noi scopriamo di avere dei difetti di questa gravità che minano in maniera rilevante la godibilità del bene che abbiamo acquistato, abbiamo dieci anni di garanzia prestataci dal costruttore, venditore, da colui che ci ha venduto l'immobile. Ricordiamoci però due aspetti importantissimi, veramente importanti. Dobbiamo fare attenzione che nel momento in cui noi denunceremo il vizio così grave, un esempio classico sono le gravi infiltrazioni d'acqua, l'umidità, le crepe, i problemi strutturali dell'immobile e i gravi problemi di funzionalità di parti dell'immobile, una volta che noi denunceremo questo stato di fatto avremo poi un anno di tempo per iniziare l'azione giudiziale. Se noi dovessimo dimenticarci di questo aspetto e continuare dopo scadenze oltre un anno a diffidare il nostro costruttore, ricordiamoci che saremo fuori tempo, avremo perso l'occasione di portare in tribunale le nostre ragioni perché una volta sollevata la denuncia la prescrizione è annuale per l'azione giudiziale in caso di gravi difetti. Anche in questo caso essendoci questi termini di prescrizione molto rigidi, essendo una materia assolutamente delicata è fondamentale chiedere la consulenza e il consiglio ad un legale prima di iniziare una causa che potrebbe risolversi in un grave danno economico. Anche per oggi abbiamo terminato, se avete domande per i nostri avvocati scriveteci avvocati rispondono chioccioleilcomizio.it Noi ci rivediamo alla prossima puntata Studio Spataro, amministrazioni immobiliari